benvenuti al mio video all ok anch'io oggi faccio un video all visto che tutti fanno video all e io non li faccio mai perché non mi ha già le aziende a me non mandano nulla perché il mio canale è piccolino è sfigato e quindi io li faccio solo se compro e ultimamente ho acquistato un po di cose perché dovevo comunque fare rifornimento di prodotti e make up di cura del corpo ma anche mi sono lasciato diventare da dei gioielli che poi faccio vedere e quindi io direi di iniziare subito da hello body dovevo comprare una crema per il corpo e visto che ci bombardano ovunque su internet quindi su instagram e soprattutto con questi prodotti di hello body che tutte le youtube le instagram le beauty guru non lo so chi insomma sembrano tutti adorare ho preso anch'io allora ho preso due prodotti ho preso la crema per il corpo la cosi winter e una maschera per i capelli idratante la coco shine sì ok io la maschera per i capelli l'ho ordinata prima che mi tagliassero i capelli cortissimi come avete visto nel mio ultimo video e comunque io anche avendo i capelli corti le maschere comunque le uso perché mi piace comunque sentirli morbidi questa non l'ho ancora provata e quindi non so che dirvi mentre la crema per il corpo l'ho provata e posso quindi dirvi già qualcosina allora all'inizio quando l'ho messa la prima volta mi è piaciuta tantissimo perché è molto densa e io in inverno adoro le creme belle corpose perché mi danno proprio la sensazione dell'idratazione del nutrimento e anche il profumo non mi dispiace non sa di cocco come credo tutti i prodotti di allo body ma un profumo comunque delicato non fortissimo non definito meglio così perché non è comunque un profumone comunque a parte questo l'ho applicata e lì per lì ho detto wow una crema molto densa che si assorbe facilmente e lì per rilascia veramente la pelle molto morbida però secondo me il potere di idratazione non è così forte perché se tipo il giorno dopo non la riapplicavo la sera comunque avevo la pelle su tutte le gambe secca e questa cosa non mi è successa con altre creme e quindi non lo devo comunque applicare tutti i giorni mi piace mi piace la consistenza appunto mi piace che si assorba subito però secondo me non è super super idratante come altre comunque un prodotto che mi piace quindi questo è il mio primo acquistino poi arriviamo ad un'altra cosa che non ho mai un'altra marca che non ho mai provato ma che mi ha curiosito tantissimo e sto parlando di mercy andy mi servivano comunque delle creme per le mani e ho pensato a questa marca che avevo visto ogni tanto in giro su youtube e sono andata sul sito è una marca molto low cost le cose costano veramente poco e quindi non so non ho provato ancora nulla quindi non so se saranno anche buone e però mi piaceva troppo il packaging dei prodotti allora tutto la bustina io vi vorrei far vedere la bustina che ha l'adesivo a cuoricino e c'è scritto hello we are mercy andy we are here to create a colorful parallel universe e quindi la bustina è veramente molto carina e c'è sia in inglese che in francese perché mi sembra che siano francesi mi sembra allora e poi la cosa carina adesso ho notato adesso questa parte sul testo questa la leggiamo insieme allora vedete sotto c'è addirittura anche un unicorno vediamo cosa c'è scritto allora se stai leggendo questo piccolo paragrafo scritto con una polvere intergalattica invisibile con un inchiostro in polvere intergalattica invisibile da è stata scritta appunto da comuni comunque esseri mortali essere viventi mortali è perché ci hai scelto attraverso insomma l'unicorno sacro l'unicorno sacro comunque sembra essere femmina perché poi continua she is this time quindi questo unicorno sacra questa questa unicorno sacra è destinata a te dopo 5000 anni di felicità e amore a patto comunque che in questo momento ovunque tu possa essere stai comunque alzando in alto le tue la testa le tue mani al cielo e stai proclamando insomma la frase grazie per esistere unicorno sacro sei così bello e così generoso grazie perché tu esisti unicorno sacro ma non finiscono qui le cose strade e carine di questo brand perché mi è caduto l'occhio anche sulla fattura che mi avevano allegato in cui comunque c'è scritto fai ormai parte della grande famiglia versi anni qui in italiano in inglese e in francese e ancora grazie per quest'ordine ci riscalda il cuore e quindi c'è ovviamente il mio ordine che ha anche il cuoricino e c'è scritto puoi aiutarci a diffondere l'amore su facebook su instagram su twitter poi mi è cascato l'occhio sul mittente sentite cosa c'è scritto mercy andy via degli orzacchiotti beati 47 bis mondo parallelo delle tre comete galassia dell'unicorno edificio a destra subito dopo il terzo arcobaleno citofono gino il nostro indirizzo sulla terra se vuoi inviarci dolci pensieri e parole e ci dicono troppo troppo carino veramente carino e adesso vi faccio vedere i prodotti che ho preso allora ho preso il dentifricio dei dentifrici dunque un attimo perché ci sono dentro anche altri prodotti che non c'entrano nulla che provi devo far vedere allora sì allora ho preso tre dentifrici perché comunque come vedete sono piccolini e quindi l'ho presi 3 e c'è scritto 98 per cento di origine naturale fatto in francia con il sorriso super fresco e insomma che sa di menta questo e questo infatti è holy mint poi abbiamo dolce come la liquirizia infatti questo è licor ice e questo invece è questo dentifricio è fresco come una ciliegia ed è il berry cool troppo carini e questi dentifrici sembrano essere tipo semi trasparenti con dei grumi all'interno quindi non lo so vedremo non l'ho ancora provati e poi ho preso ovviamente un paio di creme per le mani perché anche queste sono comunque piccoline e ho preso la love and cream 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 siamo tutti così ah no unicorn questa è la unicorn edition è infatti a tutto diciamo il packaging un po cambia colore non mi viene la parola e questo è scritto che è stato fatto teneramente in francia grig glitter and tiny bits that will soften your hand quindi questo dovrebbe avere anche brillantino non l'ho ancora provata e c'è scritto che ha un profumo delizioso di arcobaleno mentre quest'altra che è la new wave c'è scritto questo profumo fa le onde non lo so che cosa significa anche questo c'è è scritto tiny bits that will soften your hand and melt your heart mi scalderà il cuore non lo so più comunque ci dovrebbero avere appunto delle piccole diciamo sfere forse come quelle del dei dentifrici che dovrebbero avere comunque un po di tradazione e anche questo tenderly made in france insomma io sono curiosa di provarle perché veramente saccarine queste cose e quindi niente curiosissima di provare questi nuovi prodotti ok e poi vi devo far vedere dei gioielli allora avete presente quelle pubblicità che vi compaiono su facebook su instagram di vari prodotti e io ovviamente spesso ci casco e acquisto e mi è comparsa la pubblicità di questi gioielli come vedete sul sito le immagini che ci sono sono veramente molto belle infatti la prima impressione diciamo che ho avuto quando ho visto il sito è stato è stata ok queste immagini sono comunque ritoccate perché non è possibile che questi gioielli abbiano questi colori questi effetti quindi sono immagini ritoccate però mi sono comunque lasciata tentare e ho voluto fare un acquisto ho voluto prendere quattro cosine ho preso un anello degli orecchini un bracciale e una collana e allora la pecca è la spedizione perché dovete comunque aspettare un bel po io ho aspettato tipo un mese e di quattro cose mi sono arrivate prima due cose separate quindi due pacchettini separati e le altre due non si vedevano poi a un certo punto ho scritto e dopo pochi giorni mi sono arrivate anche le altre due in un unico pacchetto quindi insomma la spedizione è un po un po così però ho visto che comunque arrivano da non so se dalla cina insomma comunque da quei posti là perché c'erano tutte queste scritte insomma in questi caratteri e quindi ecco insomma la spedizione un po così però devo dire che se gli scrivete che avete comunque un problema vi rispondono subito gentilissimi e io infatti cioè ho scritto e non lo so perché ma dopo un paio di giorni mi sono arrivati gli altri due prodotti allora adesso vi faccio vedere qui vicino praticamente l'immagine di quello che ho preso io e vi dico se corrisponde o meno all'aspettativa insomma che che avevo allora innanzitutto ho preso questo bracciale che a questa pietra color tiffani praticamente ed è praticamente così sembra quasi più una collana questa chiusura qui fatta tipo a bottoncino però a me piace tantissimo perché andandolo comunque a mettere sul polso considerando che io ho un polso molto molto piccolo mi permette comunque di stringerlo a piacere posso comunque stringerlo non è pesante quindi è facile da portare comodo e adesso ovviamente con una mano non è facile se nessuno mi aiuta comunque lo stringo come voglio lo chiudo con la sua chiusura e alla fine mi riempie il polso e non mi dispiace l'effetto finale ecco più o meno insomma così ora non fate caso a questo perché non l'ho affatto bene però insomma a me piace sinceramente piace a un effetto un po tipo indiano credo una cosa del genere però mi piace proprio perché mi riempie il polso ed è leggero e comunque è un po un braccialetto un po più particolare diverso dal solito poi ho preso la collana questa collana che ha questa pietra nera che è tutta non è nera è blu scura tutta tutta glitterata ma con dei glitter veramente piccolissimi e mi piace tantissimo prima di tutto perché ha la chiusura qui che si può comunque stringere quindi si può fare più o meno lunga e questo mi piace tantissimo perché comunque in base a quello che porto mi può stare bene una collana più lunga mi può stare bene una collana più corta quindi mi si adatta a vari outfit ma poi comunque trovo che alla luce del sole con tutti questi glit sia veramente bella e mi ricorda veramente molto una galassia e poi ho preso questo nell'ino allora io preso la misura più piccola quindi mi sta bene qui sull'anulare ed è bellissimo questo anello è bellissimo ha veramente dei riflessi bellissimi che ora ovviamente qui non si vedono perché ho le luci artificiali però a me piace tantissimo mi ricorda veramente tipo degli anelli un po' che ricordano un po' quei film un po' fantastici non lo so poi questo fatto che sia comunque nero è particolare rispetto al classico argento al classico oro già messa nell'ino piace tantissimo ed è comunque molto molto rifinito secondo me quindi anche questo rispecchia veramente molto l'aspettativa e poi ho preso degli orecchini che io strastra adoro perché sono dedicati al diavoletto sono orecchini particolari ma delicati per chi come me avendo i capelli comunque corti ora non guardate che ho la parrucca ma avendo i capelli corti porto solitamente orecchini piccoli e comunque anche magari chi ha capelli lunghi non ha mai orecchini grandi quindi questi sono troppo troppo carini e anche questi rispecchiano appieno la foto e sono praticamente deliziosi credo che questa pietra si chiami opale e io ho anche altri piercing all'orecchio fatti proprio con questa pietra ma notate che la farfallina dietro contiene la coda del diavoletto cioè io questo lo amo alle alle corna alle alette cioè questi orecchini so bellissimi l'unica pecca è che la farfallina va comunque stretta un pochino perché tende a togliersi e io ho fatto il primo giorno che li ho portati una codina l'ho persa l'ho ritrovata perché ero sicura di averla persa al lavoro però ero disperata perché io non è possibile che il primo giorno che li porto già l'ho persi e comunque questi orecchini sono fantastici e sono esattamente come sul sito e poi arriviamo agli acquistini di Sephora che sono acquisti un po' di make up e un po' di trick make up direi più che altro allora ho preso la nuova matita per le sopracciglia e ho voluto prendere questa di Benefit la Goof Proof Brow Pencil perché non lo so mi attirava questa per la punta che ha anche se io l'ho vista solo dal sito veramente come vedete non l'avevo nemmeno ancora aperta e vediamo un po' com'è più che altro ecco mi attiravano un po' anche i packaging di Benefit e come vedete questo è un packaging bellissimo allora vediamo un po' allora ha la parte il classico scovolino e va bene e dall'altro la matita è fatta così con questa punta a rombo quindi è molto particolare e dovrebbe essere molto più semplice a quanto pare definire le sopracciglia e la mia è la numero 05 ho preso quella un pochino più intensa di colore perché avendo comunque adesso i capelli neri ho preferito prendere appunto questa poi ho preso sempre di Benefit ho voluto prendere il mascara il Bang, il Bad Gal questo qui ormai è famoso e non lo so mi attirava e questo è il famoso mascara con questo packaging che è molto simile a quest'altro e non lo so mi piaceva questo mascara e sinceramente il mascara di Benefit non l'ho ancora mai 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 provati questo ne ho visto la pubblicità su Instagram anche questo ha mille e quindi curiosa di provarlo e questo che cosa dovrebbe fare? chi lo sa? Dramatic Volume Instantly Lifted Lashes e quindi dovrebbe dare volume alzare le sopracciglia e quindi anche allungarle quindi dovrebbe fare praticamente tutto e vediamo un po' se è vero perché non lo so e va bene poi ho preso una maschera viso ho voluto prendere questa mini size di Glam Glow della Thirsty Mud perché questa è quella idratante allora ovviamente il packaging è bellissimo che ve lo dico a fare ho voluto prendere una mini size un po' per il prezzo perché comunque la maschera grande costa 50 euro ma poi perché almeno così mi dura comunque non tantissimo e posso comunque cambiarla prima insomma e questa è la maschera ha un profumo dolce quindi tra il colore un po' così marroncino e questo profumo un po' dolciastro mi fa venire voglia di mangiarla sembra una crema che ne so tipo con le nocciole e roba del genere quindi già questa mi attira tantissimo ma più che altro voglio vedere insomma se è vero che è idratante poi ho preso la l'original quindi la Urban Decay la il potion prime prime potion perché sto affinando quello che ho di Kiko e quindi niente mi attirava questo sono tornata un po' all'origine questo l'avevo un po' utilizzato all'inizio poi non l'ho più ricomprato e devo dire che il packaging è qualcosa di bellissimo mi mancava avere un packaging bello così del primer abituata come sono a quello di Kiko e poi mi sono presa un nuovo correttore e voglio provare questo lo Naked Skin di Urban Decay e io ho preso il Fale Neutral che dovrebbe essere un po' quello che dovrebbe coprire un po' anche le occhiaie e quindi ho preso questo in questa colorazione e poi lo struccante ho voluto prendere questo struccante di Collistar il latte multivitaminico viso e occhi allora io questo già lo sto provando da un po' e ovviamente il prodotto è ottimo strucca benissimo anche il mascara gli occhi quindi distrucca bene così come anche il viso però è diciamo una sensazione mia non amo troppo gli struccanti in crema non lo so anche sugli occhi non mi piace molto l'effetto che mi da preferisco i struccanti liquidi quindi il bifasico l'acqua micellare insomma preferisco questo tipo di struccanti però è un parere mio personale perché comunque devo dire che è delicatissimo sugli occhi ripeto strucca benissimo anche due o tre passati di mascara quindi lo struccante è ottimo vista anche la marca e basta questi sono tutti gli acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo aspetto ancora un pacchetto per farvi vedere comunque altre cosine ma non si vede dal trekking l'otto quindi dieci giorni fa stava a Torino ma non lo so se ne è persa traccia non si sa che fine abbia fatto quindi io sto ancora aspettando quest'altro pacco ma meno male che non è arrivato perché altrimenti questo video credo che sarebbe durato un'eternità quindi ve lo farò vedere prossimamente e vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete iscritti qui intanto cadono tutto e tutte le confezioni di anche attivare la campanella per essere aggiornati quando pubblico un nuovo video e vi ricordo che sotto trovate anche i link per seguirmi sui social soprattutto Instagram e niente ci vediamo al prossimo video ciao a tutti e grazie per aver guardato anche questo video all ciao